ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerò i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco armilla omicron italia srl ultimo aggiornamento 17 novembre 2021 cos'è armilla confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere armilla durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinettiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cos'è armilla armilla è un farmaco a base del principio attivo tocoferolo rrr alfa appartenenti alla categoria degli vitamine e nello specifico altri preparati di vitamine non associate è commercializzato in italia dall'azienda omicron italia srl armilla può essere prescritto con ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco confezioni armilla 400 ui 30 capsule molle informazioni commerciali sulla prescrizione titolare aviogen farma spa concessionario omicron italia srl ricetta sop medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco classe c principio attivo tocoferolo rrr alfa gruppo terapeutico vitamine forma farmaceutica capsula molle indicazioni carenze di vitamina e legate a malassorbimento condizioni in cui si richieda la prevenzione di una eccessiva per ossidazione lipidica cellulare posologia 280 mg 1 capsula al giorno controindicazioni per sensibilità al principio attivo o uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 61 avvertenze speciali e precauzioni di impiego poiché la vitamina e riduce il fabbisogno di digitale in caso di assunzione contemporanea dei due farmaci si dovrà porre attenzione ad un'eventuale iperdigitalizzazione i dosaggi di insulina nei diabetici vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazioni alte dosi di vitamina e 1200 ui possono interferire con il varfarin determinando un transitorio aumento del tempo di sanguinamento la vitamina e può potenziare l'azione della digitale dell'insulina vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it assumere armilla durante la gravidanza e l'allattamento posso prendere armilla durante la gravidanza e l'allattamento in gravidanza e durante l'allattamento il medicinale deve essere usato solo sotto stretto controllo medico a causa dell'elevato dosaggio di alfa tocoferolo nel medicinale nel caso in cui l'uso del medicinale vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari il medicinale non altera lo stato di vigilanza effetti indesiderati in seguito d'assunzione di elevati dosaggi possono comparire stanchezza e debolezza muscolare le reazioni avverse derivano da segnalazioni spontanee e non è pertanto possibile stabilire la frequenza disturbi del vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it sovradosaggio in caso di sovradosaggio è possibile la comparsa di disturbi gastrointestinali nausea diarrea stanchezza debolezza muscolare non sono conosciuti fenomeni cronici da ipervitaminosi e i sintomi e i segni del sovradosaggio di tocoferolo sono specifici con dosaggi giornalieri superiori a 700 mg sono stati segnalati disturbi gastrointestinali transitori come nausea diarrea flatulenza altri sintomi possono comprendere stanchezza astenia cefalea visione offuscata dermatite se si sospetta un sovradosaggio il trattamento deve essere interrotto laddove necessario dovranno essere adottate misure generali di supporto proprietà farmacodinamiche categoria farmacoterapeutica altri preparati di vitamine non associati codice atc a 11 e 03 la vitamina e svolge la sua principale attività come antiossidante fisiologico delle strutture lipidiche e come stabilizzante delle membrane proprietà farmacocinettiche la vitamina e viene assorbita a livello intestinale seguendo gli stessi meccanismi delle sostanze liposolubili conseguentemente si sono riscontrati valori di tocoferole mialdi sotto della norma in soggetti con dati preclinici di sicurezza studi di tossicità acuta hanno rilevato che la dose più elevata senza effetti tossici somministrata per via orale nel topo nel ratto e nel cane è stata rispettivamente di 50.000 elenco degli eccipienti olio di soia raffinato costituenti della capsula gelatina glicerolo farmaci equivalenti i farmaci equivalenti di armilla base di tocoferolo rrr alfa sono rigentex sursum fonte foglietto illustrativo aifa agenzia italiana del farmaco le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate per avere accesso alla versione più aggiornata si consiglia l'accesso al sito web dell'aifa agenzia italiana del farmaco grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farma max ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini buon proseguimento ci vediamo al prossimo farmaco esaminato